Dile a Barbara! Mi telefono! Ti dilo! Non mi si vergogna! Che è lei? Mi scordo che volevo lavorare a me, anche se non mi sarei e non mi sarei c'è il modificatore, che fai? E' il zoom C'è il mio sindaco? Ecco, il nostro benemerito sindaco che ti porto a Roma Così mi porto a Roma e a Carlo Barrese e ti mostriamo finalmente Eh, Carlo Barrese Saluta Milo! Saluta Milo! Ecco che! Stop! Dove? Domenico! Domenico! Francesco! Come si chiama un cane? Blecca! Blecca! Bello! Quanto aveva? Amaziano! Eh! Ma senti, che incrocio è questo? Pastore o chi? Pastore è pastore! Pastore è pastore! Pastore è pastore! Pastore è tedesco! Ah, è pastore? Pastore è belga! Ah, è belga! Sì, è belga! Ma infatti che cosa non è pastore tedesco? È belga! Un cugino è mezzo Vecchie! Con giovane! Che ci! Aiuto il primo piano! No, non puoi che ci arrabbare! E poi ti prendi la rai perché dopo sei fotogeneo vieni qua! Ha una sigaretta! Ma quando hai pagato di notte? Quando hai pagato di notte? Ma quando hai pagato? Ho comparto la cucina! Dai! Quando hai pagato di notte? che passava dalla cazza, ora pigliati a te ehi, ehi è in campo e ora, su un primo canale, ora vediamo quanto Gianni grazie a Sandro, è il Taremo, tu dove sei? a Bavolino sei? dove sei? che stai facendo? non posso dirti sicuramente un cugino un cugino vieni rassomigliati tra cugini tu se... non volete fare una spiegazione si capisci, trovare subito, nuovamente però vieni rassomigliati, che cugino è a Bavolino e tu che stai facendo? l'università tu sei... aiutami alla madonna non sai come succede un uomo Massimiliano Massimiliano Gianfranco ogni tanto Massimiliano sa che è se non ne vediamo sai mamma 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 va bene e perciò non c'è non c'è ma non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma si